Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Tutto procede come da copione, quod erat demonstrandum. Ricordate quando vi dicevo le proteste dei trattori divampate in Germania prima saranno ignorate dalla stampa mainstream e poi quando non potranno più essere ignorate allora verranno palesemente diffamate, esorcizzate, ostracizzate utilizzando more solito la retorica secondo cui gli agricoltori sono fascisti e populisti, xenofobi e facinorosi. Ebbene stiamo arrivando a questo secondo passaggio. Il tutto era partito naturalmente con il silenzio generale sulla protesta degli agricoltori, i media nazionali e internazionali tendevano a non parlarne o a liquidarla in poche battute. Adesso che si è espansa, che si è ingrandita, che si è in qualche modo internazionalizzata, la protesta non può più totogenere essere ignorata e allora i padroni del discorso, i monopolisti della parola, gli amministratori del consenso a beneficio dei gruppi dominanti sono passati alla fase 2, quella della ostracizzazione diffamante della protesta stessa. Ecco perché in questi giorni compaiono a tambur battente articoli di diffamazione contro gli agricoltori che vengono presentati già come violenti, facinorosi, riottosi, populisti, con qualche venatura fascista. Tutto come da copione. Siamo passati dalla fase 1 alla fase 2 e l'avevamo detto ampiamente. Vedremo quali saranno le risposte, se saranno quelle modalità gilets jaunes, le giubbe gialle, cioè una repressione violenta da parte del potere neoliberale, o se la protesta andrà da sé scemando. Una cosa è certa, non lasceranno agli agricoltori la possibilità di ottenere appieno ciò che essi giustamente richiedono. Di questo credo che possiamo essere certi, da che l'ordine neoliberale ha ben altri progetti.